Ciao la gente che aspetta, chiunque ha 3, 2, 1, go! Buongiorno ragazzi e ragazzi, oggi sono ritornata qui con un nuovissimo video Questo video è un video un po' particolare perché è un videocover su un ritornello della canzone di ultimo che ha vinto Sanremo e io tipo la amo follemente quella canzone, la canto tutti i giorni e quindi ho un po' l'occhio rosso, vabbè quindi spero vi piaccia, senza musica, però vabbè, vediamo E ci sarà il ballo delle incertezze e ci sarà un posto in cui perdo tutto che per stare in pace con te stesso e col mondo devi avere sognato almeno per un secondo e ci sarà tra la gente che aspetta chiunque ha rischiato tutto ed ha perso che per stare in pace con te stesso e col resto devi provare a volare lasciando terra a te stesso Ok ragazzi, allora, questo era il video spero vi sia piaciuto a me è piaciuto tantissimo perché piace tantissimo cantare e tantissimo ora sto alle prime armi però mi piace tanto cantare e mi piace tanto questa canzone quindi bene, ecco qui quindi 3, 2, 1, go quindi ragazzi, questo era il video spero vi sia piaciuto a me è piaciuto tantissimo iscrivetevi a Instagram marghegiuliacawaii-official su Facebook marghegiuliacawaii real sul secondo canale Maggi TV su Musical chiacciola marghegiuliacawaii real e se volete le maglie, le cover, le tazze, i cuscini o tantissimi altri colori andate su www.marghegiuliacawaii.it se il video è piaciuto ricordatevi che io marghe facciamo fitta che ora sto sul letto e come dicevamo sempre lei Giulia insieme a voi fermiamo la magic family cioè amore puro se il video vi è piaciuto lasciate like commentate e iscrivetevi al canale se non vi è piaciuto scusate ma il video era un po' corto va bene e iscrivetevi al canale